Salve a tutti giocatori e benvenuti nel nostro nuovo video Oggi siamo su questa schermata perché molto spesso mi chiedono quale strutture deck sia migliore da utilizzare per iniziare a giocare Oggi alla veloce perché ne abbiamo parlato veramente tanto di stimarsi Facciamo un recapino per consigliare appunto i migliori strutture deck possibili da utilizzare per ricominciare a giocare o iniziare Prima di iniziare il video come sempre il video iscrivetevi al nostro canale Prima di iniziare il mondo di Yugi e non solo e grazie mille parto già con dirvi che sono mazzi scontati Ho scelto questa schermata per fare vedere anche le carte e vabbè partiamo Cyber Strike ovviamente base Cyber Dragon veramente molto forte che vi da appunto una base praticamente al 90% completa di Cyber Dragon Se volete farla più control fate Cyber Dark, se volete fare un mix Cyber Style come abbiamo visto Oppure se volete andare di ignoranza magari anche un Going Second Cyber Dragon di pura ignoranza di come ci ha insegnato il mazzo Comunque si potrebbe fare anche un mix Midrage la carta penso più costosa che possiate prendere al momento Il Cyber Dragon infinito anche perchè hanno ristampato comunque i Galaxy Soldier quindi secondo me andate sul sicuro a prendere questo mazzo Ogni mazzo, ogni structure ve lo metto come sempre in descrizione con il link affiliato a Fantasiasor Se volete andare a darci un'occhiata Buono anche perchè fra poco uscirà la città che fa diventare tutte le carte macchina e avere Cioè anche in permanence e avere una super poli da inserire qui dentro e calare il Chimera Che praticamente ti consente di chiudere tranquillamente la partita Secondo me anche in vista appunto di quella carta è un investimento che si potrebbe fare tranquillamente Andiamo allo structure dell'anno quindi Albat Strike L'abbiamo parlato millemila volte è il più forte e completo di tutti quelli che vi posso consigliare Ora come ora potete montarvelo a millemila modi diversi Hanno ristampato tutte le carte meta d'espia per unirlo quindi partita alla grande Magari non è facilissimo da trovare a prezzo di uscita ma comunque se lo trovate a prezzi decente Anche magari sovrapprezzato di un paio d'euro io lo consiglio tranquillamente Tanto c'ha tutte le staple budget che potete sognarvi Oh la branded fusion qui anche da solo fa veramente tanta tanta roba Vabbè sto del mazzo dell'anno extravagance con le dark ruler Andate veramente sul sicuro Reparto anche extra deck veramente molto forte anche le trappoline Se magari avete già una mezza specie di contro potete prendere questo mazzo Prendere le trappole e metterlo in quello lì E andate veramente sul sicuro Anche i segnamostri sono comunque abbastanza fighi Poi Crystal Beast Perché paragonati a quelli che sono usciti prima questi sono praticamente il meglio Tralasciando qualcuno che è uscito prima che era veramente devastante Questi sono il meglio Crystal Beast c'ha bisogno di lavorarci un pochino C'ha bisogno di metterci tante carte Il fatto che non attiva molto spesso l'advance per turn è molto molto buono Il fatto che abbia le asce, le ht e un sacco di roba Un sacco di staple vi consente di avere comunque una base solida E quindi si può pensare di farlo Tanto poi vi basta anche un necro valle, qualche carta trappola per renderlo control Quindi partite magari con una basettina control per renderlo un po' più giocabile Dispetto del 3x dello structure che si ferma moltissimo E' molto limitato E poi pian piano magari lo andate a implementare con altre carte un po' più forti Sono usciti tantissimi set in grado di darvi delle carte budget Cioè carte budget nel senso sono diminuiti di prezzo Quindi magari con un piccolo sforzo magari si può prendere delle carte molto molto importanti Per finire questo mazzo ancora deve uscire Questa non è la lista TCG Però sappiamo che le nuove carte e le rinte d'archetipo ci stanno Il mazzo è forte E quindi sotto di Dark World Perché Dark World c'ha Tanta roba Tanta roba Il mazzo si ricicla tantissimo Gli effetti partono dalla mano Quindi bypass magari negate da terreno Mi consente di calare fusioni grosse Mi consente di utilizzare anche la super poli qui dentro A modo di pescare A modo di calare tanta roba dall'extra Al limite si può anche tentare di fare una mezza specie di blocco special Anche con le statuine E' veramente un mazzo molto molto importante Cioè tra questa qui La carta terreno Che comunque diventa addabile con il livello 3 Che quando banni si rispeciala Ecco l'unica cosa è che questa qui Quando magari uscirà lo structure E tanti magari lo giocano Questa in main Non ce la potete mettere Perché se arrivo a mirror match Tirate questa Vi Vi apro Vi apro Non metti che Se scartano silva E avete chiuso Quindi questa è l'unica pecca Mannaggia Questa è l'unica pecca E poi vabbè Distruggi carte Dark Spirit Master Teoricamente C'è anche skill 3 Dovremo vedere se lo inseriranno qui Il Dark World Ascension La fusione nuova Il grafo nuovo Quelli vecchi E insomma Queste sono le carte Gli strutture deck Migliori che potete utilizzare Per iniziare O ricominciare il gioco Siamo andando alla veloce Vedendo un po' tutte le carte Così avete anche un'idea Detto questo Fatemi sapere voi Cosa pensate Noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti